Mario Liverio, candidato alla presidenza della Regione Calabria, in occasione dell'inaugurazione del punto d'incontro di Gioia Tauro, ha sottolineato l'importanza dell'area portuale calabrese per eccellenza, un grande motore per le economie di tutta la Regione, finora trascurata. È significativa l'apertura di questo bellissimo centro qui, proprio a Gioia Tauro, nel cuore della Piana e della provincia di Reggio Calabria. Sono diventati punti d'incontro, luoghi di partecipazione democratica, di elaborazione programmatica e soprattutto di incontro con i cittadini, con le diverse forze sociali. Noi qui, nella Piana di Gioia Tauro, mettiamo grande importanza all'apertura di questo punto d'incontro. Io giorno 17, proprio qui a Gioia Tauro, ad avanzare una proposta che un gruppo di lavoro di esperti ha elaborato sulla utilizzazione, piena valorizzazione dell'infrastruttura portuale di Gioia Tauro, nell'interesse del Paese. Una proposta che tende a fare di Gioia Tauro la chiave non solo per lo sviluppo della Calabria, ma al servizio del nostro Paese, per affermare nuove relazioni con il sud del Mediterraneo e per intercettare attraverso l'infrastruttura portuale nuove relazioni con il più vasto bacino del Mediterraneo. Fare di Gioia Tauro una leva per lo sviluppo del Mezzogiorno, non solo della nostra Regione. Abbiamo elaborato una proposta concreta che sottoporremo al confronto con il Governo nazionale appena avremo la responsabilità di guidare la Regione. Attraverso la piena utilizzazione e valorizzazione dell'infrastruttura portuale noi potremo recuperare investimenti che sono stati utilizzati per creare un cimitero di spazi, di capannoni che invece a mio parere devono essere riutilizzati attraverso la realizzazione di una piattaforma agroalimentare, di un sostegno ad imprese che possono trovare una convenienza venendo qui a Gioia Tauro perché c'è una infrastruttura portuale che utilizza pienamente le sue potenzialità e soprattutto si realizza una zona economica speciale, questo è il nostro obiettivo, che incentiva la localizzazione delle imprese e gli investimenti delle imprese in quest'area.